Sono Mio Gattani, questo è un lavoro che si intitola Memorie, che ormai da decine d'anni che sto lavorando su questo lavoro, e per l'Altifira abbiamo inviato, pensato, possibilmente una serie limitata di tre critici, interpretando tre immagini che ormai sono già pubblicata, una serie libria, un giurato, poi aggiunge un po' la regia, la nostra padrona di casa. L'idea del critico è nata qualche anno fa, usando già i lavori sul progetto Memorie, e poi è un ongoing process, in cui è un continuo lavoro, alcune immagini specialmente le prime due sono più lieviche, sono non più nuove, e questo lavoro è tutto normale, e siamo tornati anche dal breve, e abbiamo fatto anche da un nuovo contesto, con un critico e altri miei 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 lavori.